Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come scrivere una nuova funzione con Visual Basic Application in ambiente Excel per poterla poi utilizzare all'interno dei nostri lavori. Come ben sappiamo l'ambiente di sviluppo ci mette già a disposizione tantissime funzioni pronte all'uso, però a volte abbiamo l'esigenza di dover scrivere delle funzioni personalizzate che dovranno essere richiamate più volte all'interno dei nostri progetti. Vediamo come è possibile. Prima di tutto vi mostro molto velocemente la sintassi di come va dichiarata una funzione. Come possiamo vedere a video dobbiamo utilizzare le parole chiavi Public Function. Dopodiché dobbiamo stabilire il nome della funzione. Il nome della funzione lo decidiamo a piacere o quantomeno inerente a ciò che stiamo calcolando. Poi subito dopo ancora, tra parentesi tonde, vanno inseriti i parametri della nostra funzione, cioè i dati che dovranno essere passati alla funzione su cui essa effettua i dovuti calcoli. Ancora dopo dobbiamo decidere il tipo di dati che la funzione dovrà restituire. All'interno del corpo della nostra funzione, che termina con End Function, possiamo scrivere tutte le istruzioni che occorrono e infine ripetere il nome della funzione che abbiamo dichiarato all'inizio alla prima riga qui, uguale al risultato che dovrà restituire al nostro calcolo, alla nostra elaborazione. Vediamo l'esempio pratico. Quindi passiamo all'ambiente di sviluppo con Alt F11 e vediamo come ho scritto una funzione che converte i chilometri in metri. Per rendere pubblica una funzione visibile in tutti i fogli di lavoro, dobbiamo inserire un modulo, così come ho fatto nell'esempio. Bisogna fare clic sul menu Inserisci, Modulo. A questo punto possiamo digitare tutte le funzioni pubbliche che vogliamo per il nostro lavoro. Vediamo subito l'esempio, cioè la funzione che trasforma i chilometri in metri. Come vedete ho digitato Public Function, che sono parole chiavi, che il sistema, vedete, distingue con il colore del carattere in blu. Dopodiché ho scelto il nome della mia funzione, che ho chiamato KM Metri. Nelle parentesi ho inserito un solo parametro. Che in questo caso mi basta per il mio calcolo. Di tipo numerico a singola precisione. Quindi il parametro l'ho chiamato KM, cioè chilometri. E is single. Dopo la chiusura della parentesi ho stabilito il tipo di dati che dovrà restituire la funzione, che in questo caso è sempre un numero a singola precisione. All'interno del corpo della funzione ho dichiarato una costante di nome CONV e ho assegnato ad essa il valore 1000, che è il fattore di conversione tra chilometri e metri. Infatti la mia funzione, KM Metri, assumerà il valore di KM per CONV, cioè i chilometri presi dal parametro che sarà passato alla funzione, per 1000, cioè CONV che vale 1000. Vediamo una routine che richiama questa funzione. Vado a rimpicciolire la finestra del modulo e vado a risaltare la finestra del foglio 1 in cui ho scritto una routine, una macro, che richiama la funzione KM Metri. Questa macro, nel foglio 1, vedete, l'ho chiamata CONVERSIONE, quindi SUBCONVERSIONE, come sappiamo già per chi ha seguito i miei corsi su Vibbia precedenti. Ho dichiarato nella mia routine una variabile KM, di tipo numero a singola precisione, e una variabile metri, sempre numerica a singola precisione. Poi ho utilizzato una input box per acquisire i chilometri da tastiera, quindi ho assegnato a KM il valore della input box. Poi ho utilizzato la variabile metri, che qui ho dichiarato, per poter assegnare il valore della mia funzione. Ho detto assegna a metri la conversione dei chilometri che ho acquisito nella input box. Cioè, in effetti, non ho fatto altro che passare il parametro KM alla funzione, che prima ho dichiarato nel mio modulo, che vedo qui sotto, KM Metri, il valore, in effetti, del mio parametro, che è questo, qui nella dichiarazione del modulo. Quindi, passando questo valore, il valore viene elaborato dalla funzione, mi viene moltiplicato per mille, e mi viene assegnato alla variabile metri. Poi, infine, ho dato il risultato attraverso una message box. Vediamo il nostro codice come funziona operativamente. Faccio clic su Esegui, Sub, la freccetta verde qui nella barra degli strumenti, e mi viene eseguita la macro, che mi chiede di inserire un valore in chilometri. Esempio, 2,3. Facendo clic su OK, mi viene calcolato il valore dalla funzione che ho scritto, e mi viene restituito nella variabile metri. La mia message box mi dice che 2,3 chilometri corrispondono a 2300 metri. Nella message box ho detto che i miei chilometri, che ho acquisito nella input box, corrispondono ai metri che ho calcolato utilizzando la funzione kmmetri che ho scritto nel mio modulo. L'ho richiamata qui, semplicemente con il nome. Quindi basta scrivere il nome della funzione, semplicemente, in modo che essa possa essere richiamata e dare, nelle parentesi, i parametri che occorrono per i dovuti calcoli. Spero di essere stato abbastanza chiaro al prossimo video tutorial.